C'è Giulia Notizia che in Versilia, un immigrato spacciatore, uno dei tanti che abbiamo importato insieme alla migrazione incontrollata, ha spaccato il cranio con una bottiglia, come purtroppo succede spesso nei nostri giardinetti, diventati delle chiaviche incontenibili e ingovernabili ad un agente di polizia. A lui va il nostro sostegno incondizionato e soprattutto la considerazione che il calcolo cinico e brutale col quale si è voluta realizzare in Italia una migrazione incontrollata che ha alimentato le forme peggiori di mafia, come la mafia nigeriana o lo spaccio dei magrebini o la totale mancanza di controllo del territorio, sta rivelandosi in tutta la sua cruda e dimensione cinica della realtà. E quando noi sentiamo il Consiglio d'Europa che critica l'Italia per la sua politica migratoria e per la chiusura parziale delle frontiere che faticosamente Salvini e Giorgia Meloni stanno cercando di realizzare, siamo esterefatti. Io credo che gli italiani debbano essere richiamati con forza al realismo, al buonsenso e alla saggezza. Non c'è alcuna generosità nell'offrire quello che non si può dare, non c'è alcuna accoglienza nello svuotare l'Africa per riempire l'Italia, soprattutto di una massa di disperati e di delinquenti. Tutto ciò non è più tollerabile.